Mio padre. Alla fine del secolo scorso e nei primi anni di quello attuale, mio padre aveva acquistato una grande popolarità come Ashok, cioè come narratore e poeta. Era conosciuto sotto il nome di Adash e, benché non fosse un professionista ma un semplice dilettante, la sua reputazione si estese lontano fra gli abitanti di numerosi paesi della Transcaucasia e dell'Asia minore. Il nome di Ashok indica dappertutto, in Asia e nella penisola balcanica, i bardi locali che compongono, recitano o cantano poemi, canzoni, leggende, racconti popolari e storie di ogni genere. Gli uomini di una volta che si consacravano a questa carriera, anche se perlopiù erano degli illetterati che da bambini non avevano neppure frequentato la scuola del villaggio, possedevano tuttavia una memoria e una viva cirito così straordinarie che oggi sembrerebbero miracolose. Non soltanto conoscevano a memoria innumerevoli racconti e poemi, a volte molto lunghi, e cantavano sempre a memoria le melodie più varie, ma si abbandonavano anche, secondo la loro ispirazione soggettiva, a improvvisazioni su temi conosciuti. Con rapidità sorprendente, essi sapevano cambiare la cadenza al momento giusto e trovare la rima. In vano si cercherebbero oggi uomini così dotati. Già al tempo della mia infanzia si diceva che si stessero facendo sempre più rari. Eppure mi è stato dato conoscerne alcuni, fra i più celebri di quel tempo, e i visi di quegli a shock sono rimasti scolpiti nella mia memoria. Se ebbi l'occasione di sentirli, lo debbo a mio padre, perché a volte egli mi portava con sé nei tornei dove di tanto in tanto si affrontavano poeti a shock di vari paesi. Arrivavano dalla Persia, dalla Turchia, dal Caucaso e perfino da alcune regioni del Turkestan, e davanti a un uditorio considerevole si cimentavano intenzioni di improvvisazioni poetiche e di canti. In genere lo spettacolo si svolgeva così. Uno dei partecipanti al torneo, il cui nome veniva sorteggiato, poneva al suo avversario, improvvisando una melodia, una domanda su un argomento religioso o filosofico, oppure sul significato e l'origine di qualche leggenda, tradizione o credenza conosciuta. L'altro rispondeva improvvisando a sua volta una melodia, e questa melodia soggettiva doveva sempre essere in armonia con quella che la precedeva, sia nella tonalità, sia in quello che la vera scienza musicale chiama successione ansalpaniana di Eki. Tali melodie venivano cantate in versi nella lingua turco-tartara, allora adottata come lingua comune dalla maggior parte dei popoli di quelle regioni che parlavano tutti dialetti differenti. Questi tornei a volte si prolungavano per settimane intere, a volte perfino per mesi, e finivano con la distribuzione di premi conferiti per consenso unanime ai cantanti che si erano maggiormente distinti. Questi regali consistevano per lo più in vestiame, tappeti o altri oggetti di valore offerti dagli astanti. Nella mia infanzia fui testimone di tre di queste grandi competizioni. La prima ebbe luogo in Turchia, nella città di Van, la seconda in Azerbaïdjan, nella città di Karabakh, e la terza nella piccola borgata di Subatan, nel distretto di Kars. Ad Alexandropole a Kars, le due città in cui visse la mia famiglia, mio padre veniva spesso invitato a delle serate dove la gente sentirlo recitare e cantare. Durante quelle serate, su richiesta dei presenti, egli raccontava l'una o l'altra di quelle innumerevoli leggende, a meno che non cantasse qualche poema dialogato di cui interpretava alternativamente entrambe le parti. A volte l'intera notte era troppo breve per terminare il racconto, di modo che ci si riuniva di nuovo il giorno dopo. La vigilia delle domeniche e dei giorni festivi, siccome noi bambini avevamo il diritto di non alzarci presto l'indomani, mio padre era solito raccontarci una storia, sui grandi popoli dell'antichità o su alcuni uomini straordinari, su Dio, sulla natura e su ogni genere di meraviglie misteriose. E finiva sempre con qualche racconto dalle mille e una notte. Ne conosceva tanti che avrebbe certamente potuto raccontarceli per mille e una notte. Fra le impressioni più profonde che mi lasciarono le storie di mio padre, storie che hanno lasciato un segno sulla mia vita, ce n'è una che mi servì più tardi, e forse non meno di cinque volte, come fattore spiritualizzante, dischiudendomi la comprensione dell'incomprensibile. Quest'impressione profonda che doveva servirmi più tardi come fattore spiritualizzante si cristallizzò in me un giorno in cui mio padre ci aveva cantato e raccontato la leggenda del diluvio di prima del diluvio, e in cui, a questo proposito, era scoppiata una discussione tra lui e un suo amico. Questo succedeva nell'epoca in cui l'imperioso peso delle circostanze aveva costretto mio padre a esercitare il mestiere di carpintiere. L'amico in questione veniva spesso a fargli visita nella sua bottega, e a volte i due uomini trascorrevano l'intera notte a tentare di decifrare il significato delle vecchie leggende e dei proverbi. Quest'amico di mio padre non era altri che l'arciprete della cattedrale militare di Kars, padre Borsch, l'uomo che doveva presto diventare il mio primo maestro, il creatore e autore della mia attuale individualità, in altre parole, della terza faccia del mio Dio interiore. La notte in cui avvenne questa discussione, io mi trovavo nella bottega insieme con mio zio che era venuto da un villaggio vicino dove egli possedeva distese di orti e vigneti. Mio zio e io eravamo tranquillamente seduti in un canto su mucchi di morbidi trucioli e ascoltavamo mio padre che quella sera cantava la leggenda dell'eroe babilonese Gilgamesh e ci spiegava il suo significato. La discussione si accese quando egli ebbe finito il ventunesimo canto di questa leggenda, in cui un certo Utnapishtim racconta a Gilgamesh come la terra di Shurupak fu distrutta dalle acque. Dopo aver fatto una pausa per caricare la pipa, mio padre disse che, secondo lui, questa leggenda risaliva ai Sumeri, popolo ancora più antico dei babilonesi, e che essa era certamente all'origine del racconto del diluvio della Bibbia degli ebrei e alla radice della concezione cristiana del mondo. I nomi soltanto erano stati cambiati, come pure alcuni particolari in determinati punti. Padre Borsch fece subito alcune obiezioni sostenute da numerosi dati contrari, e la discussione non tardò a farsi più accesa, tanto che dimenticarono di mandarmi a letto come facevano sempre in simili casi. Eravamo talmente interessati a questa controversia, mio zio e io, che restammo seduti senza muoverci sul nostro mucchio di trucioli fino all'ora in cui, allo spuntare dell'alba, mio padre e il suo amico misero fine al dibattito e si separarono. Quel ventunesimo canto fu ripetuto tante volte durante quella notte che mi è rimasto scolpito nella memoria per tutta la vita. Vi si diceva «Ti rivelerò, Gilgamesh, un triste mistero degli dèi. Come essi si riunirono un giorno per decidere di sommergere la terra di Shurupak? Ea, occhi chiari, senza dire nulla ad Anu, suo padre, né al signore, il grande Enlil, né a colui che sparge la felicità, Nemuru, e neanche al principe del mondo sotterraneo. Enua chiamò vicino a sé suo figlio Ubaratut e gli disse «Figlio, costruisci una nave con le tue mani. Con te prendi i tuoi cari e i quadrupedi e gli uccelli di tua scelta, perché gli dèi hanno deciso irrevocabilmente di sommergere la terra di Shurupak?». Onesta discussione su un tema simile, fra due uomini che erano vissuti in modo relativamente normale fino a un'età avanzata, produsse, grazie ai dati depositati in me durante la mia infanzia a causa delle profonde impressioni che ne avevo ricevuto, risultati benefici per la formazione della mia personalità. Peraltro ne presi coscienza soltanto molto di recente, subito prima della guerra mondiale. Ma da allora quei risultati non cessarono mai di essere per me il fattore spiritualizzante di cui ho parlato. Lo shock iniziale attraverso le mie associazioni mentali ed emotive scatenò questa presa di coscienza in questo semplice fatto. Un giorno lessi su una rivista un articolo in cui veniva detto che fra le rovine di Babilonia erano state scoperte alcune tavolette recanti iscrizioni che, secondo gli scienziati, risalivano ad almeno 4.000 anni prima. La rivista riproduceva le iscrizioni stesse e vi dava una traduzione. Era la leggenda dell'eroe Gilgamesh. Quando ebbi capito che si trattava di quella stessa leggenda che tante volte avevo sentito raccontare da mio padre nella mia infanzia e, soprattutto quando ritrovai in quel testo, sotto una forma quasi identica a quella del racconto di mio padre, quel famoso ventunesimo canto, fui colto da una profonda emozione interiore, come se ormai tutto il mio destino dovesse dipenderne. Peraltro ero colpito dal fatto, ancora inspiegabile per me, che questa leggenda avesse potuto essere trasmessa per migliaia di anni da generazioni di a-shock senza che la forma ne fosse stata alterata. Dopo questo avvenimento, quando i benefici risultati delle impressioni depositate in me sin dall'infanzia dai racconti di mio padre mi furono finalmente diventati evidenti, risultati che cristallizzarono nel mio essere quel fattore spiritualizzante capace di aprirmi alla comprensione di ciò che in genere sembra incomprensibile, rimpiansi molto spesso di avere aspettato tanto a dare a quelle vecchie leggende l'importanza enorme che ora, me ne rendo conto, esse hanno veramente. Un'altra leggenda che cantava mio padre su questo stesso diluvio prima del diluvio assunse per me dopo questo episodio un significato molto particolare. Vi si raccontava che molto, molto tempo fa, 70 generazioni prima dell'ultimo diluvio, e ogni generazione corrispondeva a 100 anni, nei tempi in cui il mare si trovava dove oggi sta la terra e la terra là dove oggi sta il mare, esisteva una grande civiltà, il cui centro era l'isola di Hanin, che era a sua volta il centro della terra. Ora, quest'isola di Hanin, come mi insegnarono altri dati storici, era situata approssimativamente dove si trova ora la Grecia. Gli unici sopravvissuti a questo diluvio erano stati alcuni membri di una confraternita chiamata Imastun, che rappresentava da sola tutta una casta. Questi frati Imastun erano un tempo sparsi per tutta la terra, ma il centro della loro confraternita rimaneva su quell'isola. Erano uomini di scienza. Fra le altre cose essi studiavano l'astrologia ed era per poter osservare i fenomeni celesti sotto angoli differenti che proprio prima del diluvio si erano diffusi per tutta la terra. Ma nonostante le distanze a volte considerevoli che li dividevano, rimanevano in comunicazione costante fra di loro, come pure col centro della loro comunità, che tenevano al corrente delle loro ricerche mediante mezzi telepatici. A tale scopo ricorrevano ad alcune epizie di cui si servivano come apparecchi riceventi. Una volta in trance, queste captavano e annotavano inconsciamente tutte le informazioni loro trasmesse dagli Imastun. Secondo il punto da dove provenivano le informazioni, queste epizie le scrivevano in uno dei quattro sensi convenuti. Più precisamente, trascrivevano dall'alto in basso le comunicazioni che erano loro indirizzate dai paesi situati a est dell'isola. Da destra a sinistra, quelle che ricevevano dai paesi situati a sud. Dal basso in alto, quelle che venivano loro da occidente, dove si trovava l'Atlantide e più lontano l'attuale America. E da sinistra a destra, quelle che venivano loro trasmesse dalle regioni dove oggi c'è l'Europa. E adesso, poiché nello svolgimento logico di questo capitolo consacrato alla memoria di mio padre sono stato portato a parlare del suo amico, il mio primo maestro, padre Borsch, mi sembra indispensabile descrivere qui un procedimento immaginato da questi due uomini giunti alle soglie della vecchiaia dopo un'esistenza normale, che si erano assunti il compito di preparare il ragazzo incosciente che io ero a una vita responsabile e che meritarono per il loro atteggiamento onesto e imparziale nei miei riguardi di rappresentare oggi per me, dopo tanti anni, due facce della divinità del mio Dio interiore. Questo procedimento, quando più tardi fui in grado di capirlo, mi sembrò un mezzo molto originale di sviluppo mentale e di perfezionamento di sé. Lo chiamavano castusilia, termine che, se non sbaglio, proviene dall'antica lingua assira e che mio padre aveva probabilmente preso a prestito da qualche leggenda. Ecco in che cosa consisteva. Uno dei due poneva bruscamente all'altro una domanda, a prima vista assolutamente fuori luogo. L'altro, senza fretta, con la massima calma e la massima serietà, dava una risposta logica e plausibile. Per esempio, una sera che mi trovavo nella bottega, il mio futuro maestro entrò all'improvviso e, senza darsi nemmeno il tempo di sedere, chiese a mio padre «Dov'è Dio in questo momento». Mio padre gli rispose gravemente «In questo momento Dio è a Sarikamis». Sarikamis è una regione boscosa, situata al confine tra l'antica Russia e la Turchia, rinomata in tutta la Transcaucasia e l'Asia minore per l'altezza straordinaria dei suoi abeti. Poi il vecchio prete domandò «E che cosa sta facendo Dio laggiù?». Mio padre rispose che laggiù Dio stava costruendo delle doppie scale in cima alle quali fissava la felicità, perché su queste scale potessero salire e scendere individui e nazioni intere. Domande e risposte si alternavano così, su un tono posato e tranquillo, come se uno di essi avesse chiesto «A quanto vanno le patate oggi?» e l'altro avesse risposto «Quest'anno il raccolto è stato cattivo». Soltanto molto tempo dopo dovevo capire la ricchezza di pensiero nascosta in simili dialoghi. Avevano molto spesso conversazioni di questo genere, cosicché un estraneo probabilmente li avrebbe presi per vecchi rimbambiti o per poveri pazzi in libertà il cui posto naturale sarebbe stato il manicomio. Molte domande e molte risposte che, a quei tempi, mi sembravano prive di senso, più tardi, quando mi si posero nei problemi dello stesso ordine, presero ai miei occhi un significato profondo. E soltanto allora capii l'enorme importanza che esse avevano per i due vecchi. Mio padre aveva una concezione chiara, semplice e ben definita dello scopo della vita umana. Nella mia gioventù, egli mi diceva spesso che l'aspirazione fondamentale di ogni uomo dovrebbe essere quella di conquistare la propria libertà interiore e di prepararsi così una felice vecchiaia. Secondo lui, questo scopo aveva un carattere così imperativo e così indispensabile che ognuno avrebbe dovuto capirlo senza cercare mezzogiorno alle tre. Ma per conseguirlo, era necessario che sin dall'infanzia e fino all'età dei diciotto anni, l'uomo acquisisse dei dati che gli permettessero di obbedire senza cedimento ai quattro comandamenti seguenti. Il primo, amare i propri genitori. Il secondo, conservare la propria purezza sessuale. Il terzo, dimostrare uguale cortesia nei riguardi di tutti, ricchi o poveri, amici o nemici, schiavi o potenti, a qualsiasi religione essi appartengano. Interiormente, però, rimanere libero e non fare mai troppo affidamento sul nulla e sul nessuno. E il quarto, amare il lavoro in sé e non per il guadagno. Mio padre, che mi voleva bene in modo particolare perché ero il suo primogenito, esercitò su di me un influsso profondo. Dentro di me lo consideravo non tanto un padre quanto un fratello maggiore. Le frequenti conversazioni che aveva con me, come pure i suoi racconti straordinari, favorirono nella mia natura lo sbocciare di immagini poetiche e l'aspirazione a un ideale elevato. Mio padre era di origine greca. I suoi antenati erano vissuti a Bisanzio ed erano andati in esilio poco dopo la presa di Costantinopoli da parte dei turchi per sfuggire alle loro persecuzioni. In un primo tempo erano migrati nel cuore della Turchia. Poi, per vari motivi, fra cui la ricerca di condizioni climatiche e di pascoli più favorevoli per le greggi che costituivano una parte importante delle loro immense ricchezze, erano venuti a stabilirsi sulle rive orientali del Mar Nero, nelle vicinanze della città oggi conosciuta con il nome di Gyumusane. Infine, poco prima dell'ultima grande guerra russo-turca, la ripresa delle persecuzioni turche costrinse la mia famiglia a trasferirsi in Georgia. Lì mio padre si separò dai suoi fratelli per raggiungere l'Armenia e si stabilì nella città di Alexandropol, che aveva appena preso il nome turco di Gumri. Al momento della divisione dell'eredità, mio padre ricevette una parte che, a quei tempi, rappresentava una ricchezza considerevole e comprendeva fra l'altro numerose greggi. Un anno o due più tardi, egli fu interamente rovinato in seguito a una di quelle calamità che non dipendono per nulla dagli uomini. E questo avvenne nelle circostanze seguenti. Poco tempo dopo essersi installato in Armenia con la sua famiglia, i suoi pastori e le sue greggi e mandri, mio padre, che era il proprietario di bestiame più ricco del posto, si era visto affidare dalle famiglie povere della regione, secondo l'usanza, la custodia dei loro bovini e di altri animali domestici. In cambio, egli doveva dar loro per tutta la stagione una certa quantità di burro e di formaggio. Ora, nel momento preciso in cui le sue greggi stavano così aumentando di parecchie migliaia di capi, un'epidemia di peste venuta dall'Asia si diffuse in tutta la Transcaucasia. L'epidemia fu così violenta che nel giro di nemmeno due mesi quasi tutte le bestie furono abbattute e le poche che sopravvissero erano, come si suol dire, tutte pelle e ossa. Siccome mio padre, una volta accettato il bestiame, secondo la consuetudine ne diventava garante contro tutti i rischi, perfino contro le incursioni dei lupi che erano abbastanza frequenti, in questa catastrofe non solo perse le proprie greggi, ma fu costretto a vendere quasi tutti gli altri suoi beni per risarcire i proprietari degli animali andati perduti. E mio padre, da uomo ricco qual era, da un giorno all'altro diventò povero. La nostra famiglia allora era composta soltanto da sei persone, mio padre, mia madre, mia nonna, che aveva voluto finire i suoi giorni presso il più giovane dei suoi figli, e tre figli, io, mio fratello e mia sorella. Io ero il maggiore, dovevo avere circa sette anni. Ormai senza denaro mio padre si vide costretto ad avviare una nuova impresa, perché il mantenimento di una famiglia come la nostra, che fino a quel momento era sempre vissuta in modo molto agiato, costava molto caro. Egli raccolse dunque tutto ciò che gli rimaneva di una casa il cui tenore di vita era stato molto elevato, e incominciò con l'aprire un deposito di legname, al quale aggiunse, come usava laggiù, una bottega di falegnameria per la fabbricazione di articoli di ogni genere. Ma sin dal primo anno fu un vero fallimento, perché mio padre, che non aveva mai commerciato in vita sua, mancava totalmente di esperienza. Egli dovette allora liquidare il deposito e limitarsi alla bottega specializzandosi in piccoli articoli di legno. Erano trascorsi quattro anni dal primo disastro finanziario subito da mio padre. Abitavamo sempre ad Alexandropol. Nel frattempo la celebre cittadella di Cars era caduta in mano ai russi che si adoperavano con sollecitudine a ricostruirla. Si stavano dunque aprendo delle prospettive interessanti in quella città. E mio zio, che vi si era già installato, non dovette far molta fatica per convincere mio padre a trasferirvi la sua bottega. Egli partì prima da solo, poi tornò a prendere tutta la famiglia. Questa, negli ultimi anni, si era accresciuta di tre apparecchi cosmici per la trasformazione del cibo sotto le sembianze delle mie tre sorelle minori, allora veramente carine. Sin da quando c'eravamo stabiliti a Cars, mio padre mi aveva mandato alla scuola greca, ma presto fece in modo di farmi entrare nel collegio rosso. Siccome ero molto portato per gli studi, mi occorreva pochissimo tempo per preparare le lezioni e potevo consacrare il resto delle mie giornate ad aiutare mio padre nella sua bottega. Molto presto cominciai perfino ad avere la mia clientela personale, reclutata in un primo tempo fra i miei compagni di classe per i quali fabbricavo vari oggetti, come fucili, portapenne, ecc. A poco a poco passai a un lavoro più serio. Andavo a fare ogni genere di piccole riparazioni a domicilio. Benché allora non fossi che un ragazzino, mi ricordo della nostra vita familiare fin nei minimi particolari. E su questo sfondo risalta tutta la grandezza della serenità e del distacco dalle cose che mio padre, in ogni sua manifestazione, dimostrava di fronte alle sciagure che si abbattevano su di lui. Adesso posso affermarlo con tutta certezza. Nonostante la lotta accanita che conduceva contro le disgrazie che si rovesciavano su di lui come da una cornucopia, egli conservò lo stesso, in tutte le circostanze difficili della sua vita, l'anima di un vero poeta. Tale è, a mio avviso, il motivo per cui regnava nella nostra famiglia, anche quando mancavamo di tutto, una straordinaria atmosfera di concordia, di amore e di desiderio di aiutarci a vicenda. Grazie alla sua innata facoltà di trarre ispirazione dei minimi particolari della vita, egli era per noi tutti, fin nei momenti più angosciosi della nostra esistenza comune, una fonte di coraggio, e nel comunicarci la sua libera spensieratezza, suscitava in noi quell'impulso di felicità al quale alludevo. Poiché sto parlando di mio padre, non potrei passare sotto silenzio il suo modo di considerare ciò che viene chiamato la questione dell'aldilà. Egli aveva idee molto particolari a questo proposito, e come sempre molto semplici. Ricordo di avergli fatto, l'ultima volta che lo andai a trovare, una di quelle domande tipo con le quali da trent'anni conducevo una specie di inchiesta presso tutte le persone straordinarie che incontravo e che avevano acquisito dentro di sé alcuni dati propri ad attirare l'altrui attenzione cosciente. Gli chiesi, con le precauzioni preliminari che adoperavo sempre in tal caso, di dirmi molto semplicemente, senza filosofare, quale opinione si fosse fatta nel corso della sua vita su questa questione. Ha all'uomo un'anima, e quest'anima è immortale? Come dirti, mi rispose, l'anima che la gente attribuisce all'uomo e della quale si pretende che dopo la morte prosegua un'esistenza indipendente che trasmigri? Ebbene, io non ci credo. Eppure qualcosa si costruisce nell'uomo nel corso della sua vita. Su questo non ho alcun dubbio. Ve lo spiego così. L'uomo nasce con una facoltà grazie alla quale alcune esperienze elaborano in lui nel corso della sua vita una sostanza definita, e a partire da questa sostanza, poco a poco, si forma quel qualcosa che è suscettibile di acquistare una vita quasi indipendente dal corpo fisico. Dopo la morte, questo qualcosa non si altera insieme al corpo fisico, ma soltanto più tardi, una volta che si è separato da questo corpo. Benché questo qualcosa sia composto degli stessi elementi del corpo fisico, è fatto di una materia molto più sottile, e possiede, sembra, una sensibilità molto maggiore verso ogni genere di percezione. La sua acutezza di percezione raggiunge, secondo me, quella di… Ti ricordi l'esperimento che avevi fatto sussando quella povera armena semplice di mente? Egli alludeva ad alcuni esperimenti che avevo tentato in sua presenza molti anni prima, durante un soggiorno ad Alexandropol. Operavo su persone appartenenti ai tipi più diversi e le mettevo in stato di ipnosi a vari gradi per scoprire da me tutti i particolari di questo fenomeno che gli scienziati ipnotizzatori chiamano esteriorizzazione della sensibilità, o transferta a distanza di sensazioni dolorose. Operavo nel modo seguente. Con un miscuglio di creta, cera e granellini di piombo, modellavo una figurina rudimentale, a immagine del medium che avevo intenzione di mettere in stato di ipnosi, cioè nello stato psichico che, secondo una scienza antichissima giunta fino a noi, è caratterizzato dalla perdita dell'iniziativa e che, secondo la classificazione della scuola di Nancy, corrisponde all'ipnosi di terzo grado. Dopodiché, con un unguento a base di olio di oliva e olio di bambù, strofinavo accuratamente l'una o l'altra parte del corpo del medium. Raschiavo poi questo strato e lo applicavo sulla parte corrispondente della figurina. Potevo allora intraprendere lo studio approfondito del fenomeno che mi interessava. C'era un fatto che aveva molto colpito mio padre. Se toccavo con un ago le parti spalmate d'olio della figurina, gli stessi punti trasalivano subito nel medium, e se pungevo più forte, nel punto corrispondente, stillava una goccia di sangue. Ma lo aveva colpito soprattutto il fatto che il medium, una volta riportato allo stato di veglia, non ricordasse mai nulla e affermasse di non aver sentito assolutamente nulla. Perciò mio padre, che era stato testimone di questo esperimento, ora si riferiva a esso per dirmi. Ebbene, nello stesso modo questo qualcosa reagisce ad alcune azioni circostanti e rimane assoggettato alla loro influenza, sia prima sia dopo la morte dell'uomo, fino al momento della sua disintegrazione. Come ho già detto, mio padre adoperava nei miei riguardi per educarmi ciò che io chiamerò persecuzioni sistematiche. Fra queste persecuzioni sistematiche, una delle più rilevanti era questa. Durante la mia infanzia, cioè durante quel periodo in cui, nell'uomo, si costituiscono i dati necessari per gli impulsi di cui egli disporrà poi nel corso della sua vita responsabile, mio padre prendeva in ogni occasione propizia le misure necessarie perché, invece di quei fattori di impulsi chiamati avversione, disgusto, ripugnanza, vigliaccheria, pusillanimità e altri, si stabilissero in me i dati corrispondenti a un atteggiamento di indifferenza nei riguardi di tutto ciò che di solito genera tali impulsi. Di questo sistema dovevo più tardi risentire molto vivamente gli indubbi effetti benefici, effetti che non passarono inosservati a coloro che ebbero rapporti con me durante le mie spedizioni alla ricerca della verità nelle regioni più desertiche del globo. Ricordo molto bene come, con questo scopo, egli nascondesse nel mio letto una rana, un lombrico, un topo o un qualsiasi animale suscettibile di provocare uno di questi impulsi, oppure mi costringesse a prendere in mano serpenti non velenosi e perfino a giocare con essi. Fra tutte queste persecuzioni sistematiche ce n'era una che angosciava in modo particolare le persone di casa, mia madre, mio zio, mia zia e i nostri vecchi pastori. Consisteva nel farmi uscire dal letto molto presto ogni mattina, nell'ora in cui il sonno dei bambini è ancora così dolce, per portarmi alla fonte e spruzzarmi di acqua gelida, poi nel farmi correre completamente nudo, e se cercavo di opporre la minima resistenza non cedeva mai, e benché fosse molto buono e mi volesse molto bene, non esitava a castigarmi senza pietà. Quante volte in seguito mi sono ricordato di quei momenti per ringraziarlo con tutto il mio essere di ciò che aveva fatto per me. Senza tutto questo non avrei mai potuto superare le innumerevoli difficoltà incontrate nei miei viaggi. Egli conduceva a un'esistenza di una regolarità meticolosa, e su questo punto si mostrava assolutamente spietato verso se stesso. Farò soltanto un esempio. Poiché si era posto come regola di andare a letto presto, per potere, sin dall'alba, lavorare alla realizzazione di ciò che aveva deciso il giorno prima, non fece eccezione a questa abitudine neppure la sera delle nozze della propria figlia. Ho visto mio padre per l'ultima volta nel 1916. Egli aveva allora 82 anni, ed era ancora pieno di salute e di vigore. A malapena nella sua barba si potevano distinguere i primi fili d'argento. Morì un anno più tardi, ma non di morte naturale. Questo avvenimento tragico, così doloroso per tutti quelli che lo conobbero, e soprattutto per me, successe durante l'ultima grande psicosi periodica degli uomini. Quando i turchi attaccarono Alexandropole e la nostra famiglia dovette fuggire via, egli non volé lasciare la sua casa alla mercè della sorte, e fu ferito mentre tentava di salvare i beni della famiglia. Morì poco dopo, e fu sepolto da alcuni vecchi che erano rimasti in città. Tutte le note manoscritte lasciate da mio padre, tutti i testi di leggende e di canti che erano stati scritti sotto la sua dettatura e che secondo me avrebbero costituito il memoriale più bello, sono andati perduti, per la disgrazia di ogni essere in grado di pensare durante i ripetuti saccheggi della nostra casa. Tuttavia non è impossibile che per qualche miracolo fra le cose che ho lasciate a Mosca siano state conservate alcune centinaia di canti registrati su cilindri. Per tutti quelli che sanno ancora apprezzare il vecchio folclore, sarebbe un grande peccato se queste registrazioni non potessero venire ritrovate. Per fare meglio apparire allo sguardo interiore del lettore l'individualità di mio padre e la sua forma di intelligenza, noterò qui alcune delle numerose sentenze soggettive con cui egli amava punteggiare la conversazione. A questo punto trovo interessante sottolineare un fatto che, del resto, non fu il solo a notare. Ogni volta che egli adoperava una di quelle sentenze nella conversazione, a tutti i suoi interlocutori sembrava che essa giungesse sempre al momento giusto e che non si sarebbe potuto dire di meglio. Invece, se qualcun altro si azzardava a servirsene, cadevano sempre a sproposito o avevano l'aria di semplice assurdità. Eccone qualcuna. 1. Senza sale e niente zucchero. 2. Le ceneri sono figlie del fuoco. 3. La tonaca sta lì per nascondere l'imbecille. 4. Egli sta in basso perché tu ti trovi in alto. 5. Se il curato va a destra, il maestro di scuola non può che andare a sinistra. 6. Se l'uomo è vigliacco, questo prova che egli è capace di volontà. 7. Non è la quantità di cibo che sazia l'uomo. È l'assenza di avidità. 8. La verità soltanto ha il potere di placare la coscienza. 9. Senza l'elefante e senza il cavallo, persino l'asino sarebbe un signore. 10. Nell'oscurità il pidocchio è peggio di una tigre. 11. Se io è presente in me, non contano più né Dio né diavolo. 12. Una volta che te lo sei messo sulle spalle, non c'è nulla al mondo di più leggero. 13. L'immagine dell'inferno. Una scarpa di vernice. 14. Una vera miseria in terra è la cineseria delle donne. 15. Niente di più stupido di un uomo intelligente. 16. Fortunato colui che non vede la propria infelicità. 17. Il maestro è il grande dispensatore di luce. Chi è dunque l'asino? 18. Il fuoco scalda l'acqua, ma l'acqua spegne il fuoco. 19. Gengis Khan fu grande, ma se vogliamo la nostra guardia municipale è ancora più grande. 20. Se sei il numero uno, tua moglie è il numero due. Ma se tua moglie è il numero uno, sii piuttosto zero. Perlomeno la vita delle tue galline non sarà più in pericolo. 21. Se vuoi essere ricco, sii in buoni rapporti con la polizia. Se vuoi essere celebre, sii in buoni rapporti con i giornalisti. Se vuoi saziarti con tua suocera. Se vuoi la pace con i tuoi vicini. Se vuoi dormire con tua moglie. Se vuoi perdere la fede con il tuo parroco. Per completare questo ritratto di mio padre, mi rimane da parlare di una certa tendenza inerente alla sua natura, tendenza rara nella nostra epoca, e che perciò tanto più colpiva quelli che lo conoscevano bene. Quando la povertà lo costrinse a darsi al commercio per guadagnarsi la vita, sin dall'inizio i suoi affari presero una piega così brutta che i suoi cari, come pure tutti quelli che dovevano trattare con lui, giunsero a considerarlo un uomo privo di senso pratico e perfino privo di intelligenza in questo campo. Il fatto è che gli affari che mio padre avviava per guadagnare denaro non funzionavano mai e non davano nessuno dei risultati che altri ne avrebbero ottenuto. Eppure questo non dipendeva affatto da mancanza di senso pratico o di capacità mentali in quel campo, bensì da questa tendenza specifica della sua natura. Questa tendenza, acquisita probabilmente sin dall'infanzia, la formulerei così. Repulsione istintiva per l'idea di trarre un profitto personale dall'ingenuità o dalla sfortuna altrui. In altri termini, essendo un uomo probo e onesto al massimo grado, mio padre non avrebbe mai edificato consapevolmente il proprio benessere sulla disgrazia del suo prossimo. Ma siccome intorno a lui la maggior parte degli uomini erano dei rappresentanti tipici della mentalità contemporanea, essi non esitavano a trarre profitto dalla sua onestà per imbrogliarlo sistematicamente, cercando inconsciamente di depreciare così il valore di tale caratteristica sulla quale poggia l'insieme dei comandamenti del nostro comune padre. In breve, mio padre, era l'esempio ideale cui si sarebbe potuta applicare questa sentenza che oggi i seguaci di tutte le religioni traggono dalle sacre scritture per caratterizzare, sotto forma di consiglio pratico, le anomalie della nostra vita quotidiana. Colpisci, non verrai colpito, ma se non colpisci ti pesteranno tutti come la capra di Sidor. Benché gli capitasse spesso di trovarsi immischiato in avvenimenti che sfuggono al potere degli uomini e cagionano all'umanità intera ogni genere di calamità, e benché quasi sempre le persone che gli stavano intorno si comportassero con lui in modo poco pulito, che ricordava stranamente quello dello sciacallo, egli non si scoraggiava mai, e senza identificarsi con nulla, si manteneva interiormente libero e restava sempre se stesso. Il fatto che la sua vita esteriore fosse stata privata di tutto ciò che nel suo ambiente era considerato ricchezza non lo turbava in nessun modo. Egli era pronto ad accettare tutto, purché il pane non mancasse, eppur di poter stare in pace nelle ore che consacrava alla meditazione. Ciò che gli dispiaceva di più era di essere disturbato di sera, quando sedeva fuori per guardare le stelle. Quanto a me, oggi posso soltanto dire che, dal profondo del cuore, vorrei poter essere come l'ho conosciuto nella sua vecchiaia. A causa di varie circostanze della mia vita, del tutto indipendenti da me, non ho visto con i miei occhi la tomba nella quale riposano le ceneri del mio caro padre, ed è poco probabile che io abbia mai l'occasione in avvenire di andare a visitarla. Per questo, nel finire questo capitolo consacrato a mio padre, ordino a quello fra i miei figli, e sia tale nella carne e nello spirito, che avrà la possibilità di ritrovare quella tomba solitaria, abbandonata in seguito ad avvenimenti dovuti a quel flagello umano chiamato «sentimento gregario di erigere una stele» che recchi questa iscrizione. «Io sono te, tu sei me, egli è nostro, tutti e due siamo suoi». Che tutto sia per il nostro prossimo.